Sì, è Schindler. Sì, c'è scritto Schindler. Aspetta a chiudere. Aspetta a chiudere. Sì. Qua mi piace acciolare nozze. Ci vuole nozze qua. Ah, sicuro. Non è chiuso bene. Ah, sicuro. Ah, sicuro. Ah, sicuro. Sì. 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 Facciamo ancora una volta su e giù e poi finiamo in cantina. Sì. 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 L'ultimo giro in cantina. fa vedere che apri le porte che intanto abbiamo finito ok Grazie a tutti. Ecco, chiudi le porte tutte e due. Grazie a tutti. Gli appassionati di ascensore.